Fantozzi ragioni rugo, matricola milleuno barabis, dell'ufficio sinistri, lei venghi qua, si signor mega direttore, no vati là, e si muovi, hanno messo la parete a vetri, sveglia e caffè, barba e e si muovi, hanno messo la parete a vetri, sveglia e caffè, barba e caffè, barba e caffè